Siamo qui davanti alla regione siciliana per farci notare e per farci sentire perché in questo momento siamo scoperti di cassa integrazione ma siamo tra l'altro anche scoperti e siamo preoccupati per l'incertezza che la BluTech da quando è entrata non sta rispettando gli impegni che aveva assunto per questa avvertenza che si sta prolungando troppo per noi, per quanto ci riguarda, quindi siamo preoccupati per la BluTech che non sta rispettando gli impegni che aveva assunto in sede ministeriale siamo preoccupati anche perché in questo momento siamo scoperti di cassa integrazione. A questo punto chiedete risposte dal governo regionale? Sì, noi dobbiamo continuare, non possiamo fermarci, è dal 2011 che questa vicenda va avanti, nel 2011 è andata via Fiat, nel 2014 è subentrata BluTech le cose sono andate sempre a peggiorare, ci hanno promesso anche il ministro Di Maio che è venuto a Termini Merese il 26 ottobre ci ha promesso che avrebbe rinnovato la cassa integrazione, che ci avrebbe fatto ritornare di nuovo al lavoro invece siamo a febbraio, non abbiamo né il lavoro e nemmeno la cassa integrazione, cioè senza spiegarci il motivo cioè a noi i motivi tecnici non ci interessano, a noi interessa solo poter sopravvivere perché noi viviamo di cassa integrazione perché purtroppo il lavoro non ce n'è e loro si devono impegnare a trovare la soluzione in questo stabilimento perché siamo stanchi e non sappiamo più quello che dobbiamo fare è assolutamente inaccettabile che gli operai della BluTech siano stati costretti ad una serie di sit-in sit-in davanti al Comune di Termini Merese, davanti al Palazzo d'Orleans e contemporaneamente davanti al Ministero dell'Economia finalmente sembrerebbero aver sostituito l'attenzione del distratto Di Maio che finalmente ha fissato loro un appuntamento a termini per il 23 febbraio spero che si passi ora dalle vacue e vane promesse ai fatti ovvero alla proroga della CIG per i lavoratori BluTech appunto per la quale si aspetta la firma del decreto e la mobilità in deroga ovviamente per gli altri operai delle aziende dell'indotto inoltre chiediamo che venga aperto prima possibile un confronto sul piano della reindustrializzazione perché così non si può più andare avanti è un fatto di dignità, è un fatto di diritti che vanno garantiti lo chiedo in maniera decisa il buon Di Maio l'ammetta di tergiversare e passi alla risoluzione immediata del problema questa gente non può più aspettare grazie